Abbiamo esagerato questa volta! Non dovevamo usare una bomba atomica come fuoco d'artificio. Ora come faremo? Aiutateci! La mia casa! Distrutta in mille pezzi! Fuggite prima che sia tardi! Abbiamo perso tutto! Cosa cosa succede? Chi sei tu? Non c'è tempo da spiegare, è ora di alzarsi, samurai! Il tempo scorre, non c'è tempo da perdere! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS